e così tra veramente poco tempo si andrà a votare e cosa succede? già oggi possiamo assistere sui social possiamo guardare in televisione ma anche chiacchiere da bar o sull'autobus per chi lo prende è già iniziata la corsa alle tifoserie o bianco o nero se sei della Juve puoi essere anche un delinquente ti puoi anche aver ammazzato a 12 bambini e seppelliti vivi nel giardino di casa ma se io sono juventino tu sei juventino allora sei santo se invece sei una bravissima persona tutto è regolare una cosa normale però ti fai per il torino allora sei disgraziato, un fetente, devi morire c'è il classico atteggiamento infantile perché la tifoseria lo sappiamo bene non ha molto a che fare con la persona matura, seria e equilibrata ha più a che fare col panciullino è una cosa che con l'adolescenza bisognerebbe superare bisognerebbe perché purtroppo si registra che c'è gente che non lo fa e allora qui è lo stesso discorso ovvero ci sono persone che siccome sono di una precisa area politica allora riescono a difendere l'indifendibile solo e esclusivamente perché avviene dalla loro parte politica poi però se c'è qualcosa di buono da altre parti hanno paura perché sono dei vili sono persone che hanno paura siccome non sono sicure delle proprie idee hanno paura del confronto hanno paura quindi hanno anche paura di accettare l'idea che qualcuno della parte avversa possa aver fatto qualcosa di buono e allora lo sfottono lo prendono in giro perché? perché lo sfottò la presa in giro è tipica di quello che non ha idee ha paura e ha solo uno schermo uno scudo davanti un'ideologia è lì che ha paura che arrivi da qualche parte qualche idea che odio odio poi io devo cambiare posizione o devo ammettere che su quel preciso punto c'è qualcuno che ha una prospettiva politica migliore della mia allora io lo dico chiaramente non ci sto indipendentemente da tutto indipendentemente da tutti se qualcuno che ha un'idea politica diversa dalla mia però dice una cosa intelligente sensata coerente con me oh ragazzi io lo dico mi spiace mi spiace ma ho 52 anni e come tutte le persone serie e mature ho il coraggio di poter ammettere che se c'è un delinquente se c'è un incapace dalla mia parte rimane un delinquente un incapace se c'è qualcuno che ha avuto un'idea intelligente dall'altra parte comunque rimane un intelligente che obiettivamente o non la pensa come me e che sarà mai è il sale della democrazia io non ci sto a questa cultura mafiosa mafiosa che nemmeno i mafiosi adottano perché sono più intelligenti ma è cultura mafiosa il dire se la pensi come me allora sei un santo se non la pensi come me allora sei un delinquente sei da massacrare sei da sfottere non ci sto e sono sicuro che tutte le persone serie intelligenti mature la pensano come me i bambinetti vabbè purtroppo sappiamo che il mondo è pieno anche di bambini che hanno 80 anni succede salut grazie a tutti